buongiorno a tutti oggi sono praticamente a casa su Romito e niente vi faccio vedere un po' di panorama a De Romiso qui a Riccardo eccoci qua vedete questi giorni indietro ha fatto un po' di vento sicché c'è il mare un po' citato c'è il castezonnino vedete che bellezza vedete che bello qui c'è il famoso ristorante Romito il panorama è davvero nosevole peccato che è corta questa riviera grazie vedete davvero ci sono degli scorci veramente notevoli a questo ristorante Cara Furia grazie grazie guardate qua guardate che paisaggio e niente e ora purtroppo è già finito il tratto di strada che devo fare per lungo Romiso grazie 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 basta ora non vi annoio più ciao a tutti e divertitevi